Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi domenica 4 gennaio vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con incendio nella sede di Molise dati, fiamme nell'area server danni ingenti da ieri mattina siti internet oscurati. Dito puntato contro la scarsa manutenzione ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 quando alcuni passanti hanno visto del fumo nero uscire fuori dalle grate. Immediatamente l'intervento di 115 e tecnici Enel per arginare danni provocati da un incendio divampato nella sede di Molise dati, precisamente nell'area server. Ingenti i danni da ieri mattina diversi siti internet non funzionano. E poi Petraroia chiarisce che ci sarà un nuovo piano regionale. Alzheimer, famiglie e operatori denunciano hanno abolito l'assistenza domiciliare. Mentre i pazienti lamentano l'interruzione del progetto ADA, l'assessore chiarisce che per i malati di Alzheimer la regione investirà risorse proprie. E poi l'Università Brasello ci riprova. Appello a Frattura e Palmieri. L'obiettivo è salvare la sede di Isernia. Il sindaco Brasello invita Frattura e Palmieri in consiglio per discutere sulle possibilità di salvare la sede di Via Mazzini. L'assise è stata convocata per il prossimo 20 gennaio. Petrolio e gas. La Croazia pronta ad esplorare il mare adriatico, interessata anche la costa molisana. E a Isernia, Borse, lavoro nella bufera Galasso Querela, la consigliera Calenda. Saldi si parte con il piede giusto, ma per le famiglie il budget è limitato. Ieri il primo giorno di sconti, ribassi fino al 50%. C'è chi proprio non riesce a rinunciare ai saldi e proprio per questo è in prima fila allo scoccare del primo giorno di sconti. Ieri discreta affluenza nei negozi molisani, anche se per le famiglie il budget è limitato. E poi Capracotta aprono gli impianti, esultano albergatori e turisti a pieno regime gli impianti di Monte Capraro. Passiamo allo sport serie D, riparte il campionato, impegno a Chieti per l'Agnone, i Granata di Donatelli vogliono rialzarsi subito. Ancora serie D, arriva anche l'ufficialità, il derby tra Lupi e Termoli rinviato al 14 gennaio, Campobasso e Termoli oggi a riposo. Calcio a 5 di serie B, poker risernia la winna di Vvenafro-KO sul campo del Bisceglie e sorride solo la formazione di Cataneo. Promozione Torre Magliano appetacciato, la gara di Repa si recupera martedì, in campo regionale si gioca solo appetacciato. Passiamo ora a primo piano Molise, che titola Con incendio alla Molise dati indaga la polizia. Le fiamme sono partite dalla sala server dell'edificio della società informatica della regione. Sul posto vigili del fuoco e scientifica, gli inquirenti non escludono, si possa trattare di un cortocircuito. In tilt per molte ore alcuni dei servizi offerti dalla Molise dati, ma poteva essere molto più pesante il bilancio dell'incendio. Divampato nella sala server della struttura di via Insorti d'Ungheria, sulle cause del rogo indaga la polizia. E poi bufera sull'ITR, la procura di Milano chiede i documenti del concordato e commissaria all'HDC. Altre preoccupazioni per la ripartenza del tessile. A Esernia Borse Lavoro al Comune, la Cherel finisce in tribunale, esposto della consigliera Calenda, il bando è discriminatorio. La consigliera Calenda presenta l'esposto in procura. Sarà la magistratura a far luce sul bando delle Borse Lavoro al Comune. Intanto l'assessore Arramo minaccia Querela per diffamazione. E poi l'assistenza ai malati di Alzheimer, Petraroia rassicura il servizio, non verrà sospeso. Ancora Saldi inizia la corsa all'affare, Saldi in anticipo per risollevare l'economia locale. La caccia all'affare è partita. Da ieri nei negozi della Regione hanno fatto capolino i Saldi. La campagna dei ribassi è stata anticipata nella speranza di risollevare l'economia locale. Ottimisti commercianti, dopo un Natale fiocco dal punto di vista dei consumi. E ancora accade un deltaplano. Muore il pilota ferito, il passeggero di 14 anni. Il tragico incidente sul Matese a piedi monte. Tragedia sui monti del Matese. Ieri pomeriggio un deltaplano si è schiantato al suolo. È morto il conducente. Un quarantenne campano, mentre è rimasto ferito il passeggero di 14 anni. E ancora la stagione invernale decolla. Aprono gli impianti. Da oggi si scia sia a Capracotta che a Campitello. Dopo il collaudo degli impianti, gli amanti della montagna possono recarsi sulle piste di Monte Capraro e inforcare gli sci. Stagione invernale al via anche a Campitello. Passiamo ora allo sport. Serie D gioca solo l'Olimpia e Granata a Chieti. Con il derby Campobasso Termoli rinviato al 14, l'unica molisana a scendere in campo nel pomeriggio sarà l'Olimpia agnonese. Per i Granata c'è il Chieti dell'ex vittorio Esposito. Calcio a 5, i Zerni a poker nel derby. Venafro battuto dalla capolista. Abruzzo vastese precali chiede serenità, così i play-off sono difficili. E ancora un'altra notizia dall'Abruzzo d'Avasto. La casa della salute è incompleta. Il taglio del nastro è solo una beffa. Passiamo ora al quotidiano online. Informa Molise. Tra le notizie in primo piano, Natale sotto le stelle a Campobasso, ultimi eventi del cartellone. E ancora, polizia di prossimità a Campitello, servizio attivo fino al termine della stagione sciistica. Ciocca, il senatore di Giacomo Ceci, offre una lezione sulla protezione civile. Ancora le scale cromatiche di Giorgio De Chirico in esposizione alla ex Gil. Il calendario dei corsi di formazione di Terminus. E ancora la stagione teatrale 2014-2015 al Teatro Fulvio di Guglionisi, il cartellone. Poi lo sport e il derby Campobasso Termoli, rinviato al 14 gennaio. Natale al Borgo a San Giovanni in Galdo. Ristrutturazione immobili, bonus del 50% per le pertinenze, sconto per i costi notarili del vincolo. E passiamo ora alla stampa nazionale, leggiamo la Gazzetta del Mezzogiorno, che titola con Atlantic, garage ancora rovente. Prima ispezione di 5 ore in altri ambienti del traghetto, nessun cadavere, di Polignano il comandante del rimorchiatore. Non mi sento un eroe, il disastro in Adriatico. Brindisi, molti punti da chiarire nell'inchiesta dei magistrati baresi. Risultano disperse ancora una decina di persone. Tra le vittime, anche una ragazzina albanese di 15 anni, la madre fra i dispersi, si sono salvati il padre e la sorella. L'ipotesi di una nave poco familiare ai marittimi. E ancora Puglia e Basilicata, i saldi partono bene, negozi affollati il primo giorno. La caccia falsi malati, i casi di Bari e della Puglia, Marino, Licenzio, i vigili assenteisti. Renzi e Idem, un altro arbitro equilibrato e saggio, al colle, polemica dei grillini, a sciare col volo di Stato, la lettera a succedere a Napolitano non è facile. E ancora Bari, l'incubo, sfratti su centinaia di famiglie, ma in città molti appartamenti sono spitti, proroga cancellata dal governo, il comune corre ai ripari. Marò, girone ostaggio in India per garantire il rientro di la torre, l'avvertimento ricoverato a Milano, il fuciliere colpito da ischemia. E ancora il declino irreversibile di una nazione senza doveri. Passiamo ora al quotidiano e l'avvenire, che titola con migranti, Unione Europea, inerte, nuovo regime, ma tutto il lavoro fatto dall'Italia. Il fatto, altri sbarchi, mentre la Marina termina le operazioni di soccorso, i trafficanti ora scelgono nuove rotte in Germania e allarme xenofobia. Il mondo in bilico del 2015 può essere un anno di svolta anche con la minaccia dell'IS. E poi la politica a Renzi, per il Quirinale un garante di tutti, il Premier lancia la sua roadmap, Movimento 5 Stelle accusa volo di Stato per le vacanze, Vicenda di Roma, assenteismo, controlli IMSS marino, i vigili licenziabili. E ancora i temi dell'avvenire, Meticcio il genio del nostro futuro, quattro economie, fissata la data, eutanasia in carcere all'Ergastolano, il Belgio va avanti, e poi l'aggressione di Milano, ferite vere e false, il perdono possibile dopo lo sfregio. Ancora l'energia, ecco la campagna anti-investimenti in carbone e petrolio, i due Marola torre in ospedale per i media indiani, girone e ostaggio. Rogo in mare, nessun corpo nella stiva del traghetto. E poi l'ambiente, sigilli a oleodotto inquinanti a Roma, morti in Campania. E passiamo ora allo sport, leggiamo la gazzetta dello sport, che titola con l'anno che Pogba, la Champions, può convincerlo a restare, ma anche se parte può far grande la Juve, nel Merino, Falcao, Ramirez e Miranda. Una stella da 90 milioni, poi Shakiri ha deciso, vuole l'Inter, ma Podolski è a rischio Juve. Ancora Milan, in onda il Silvio Show, noi i migliori, i Pip, urrà. E ancora Beffa e Viola, netto, bianco, nero a luglio. Questo era il nostro ultimo quotidiano sportivo, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per aver scelto la Rassegna Stampa di Molise TV e buona giornata. Previsioni del tempo per domenica 4 gennaio. Il fronte giunto nella notte si allontana verso Levante, tuttavia richiamerà sei correnti settentrionali che nella seconda parte del giorno porteranno locali fenomeni sul Molise. Venti moderati settentrionali in intensificazione, mari da molto mossi e ammossi, temperature minime stabili, massime in aumento, ma il nuovo calo dalla serata con fiocchi sotto i mille metri. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 2, massima 10 gradi. Isernia minima 1, massima 10 gradi. Termoli minima 8, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Skip the road, bum, 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 look at me!